Senza voce di Claudia. Quando vivevo in Sicilia sugli autobus era abbastanza comune essere palpeggiata qualche volta, essendo una bella ragazza poteva capitare. Adesso a Milano nessuno mi tocca più il sedere quando prendo l'autobus affollato o se il tram è pieno, nemmeno quando ci sono tanti stranieri, o almeno fino una settimana fa quando è successo di nuovo e non me l'aspettavo. Di sera lavoro in una pizzeria per pagarmi l'affitto in questa città piena di luci e ombre, bellezza, ricchezza e povertà. Non mollo sui miei sogni e il corso per aspiranti attori costa molto caro. Pagarmi l'affitto è la condizione fondamentale per poter restare qui e frequentare il corso triennale al piccolo teatro ottenuto dopo tanti sacrifici. E poi sono addirittura di arrivo, mi diplomerò in primavera e ho sul tavolo alcuni copioni da valutare per iniziare una tournée. Un piccolo ingaggio con cui potrò iniziare la mia carriera da attrice. Si tratta solo di resistere per i prossimi quattro mesi. Non sarà certo una palpatina di colleghi sfrontati o giulivi a fermare i miei sogni e impedirmi di restare a Milano. Questo lavoro è un buon compromesso in attesa di realizzare i miei sogni.